In apertura del Consiglio Comunale di quest'oggi, l'assessore allo sport Roberto Fagnani ha risposto al question time presentato dal consigliere Lorenzo Margotti relativo alla torre d'arrampicata di Marina di Ravenna. La parete è attrezzata per il climbing che rischia di non trovare un luogo di ricollocamento dopo la decisione presa dal concessionario dell'area di Marina di Ravenna di smantellarla. Lo specifico è che il mio intervento è come assessore allo sport perché chiaramente va precisato che quell'area è di proprietà demaniale, gestita dalla forestale, in concessione alla Bukowski SRL e attualmente c'è un nuovo investitore che legittimamente ritiene di non dover usufruire più di quella arrampicata. Chiaramente alla notizia dell'eventuale demolizione di quella struttura siamo intervenuti subito convocando la Bukowski SRL, sia io che la mia collega, l'assessore Federica Del Conte. Devo dire che da parte della Bukowski ho trovato subito una collaborazione a non demolire immediatamente la struttura, a trovare una soluzione adeguata. Attualmente ci sono in corso degli incontri sia tra l'Istric, la società dell'Arampicata e Ravennate, che tra noi e tra le varie parti per poter trovare una soluzione, per valutare tutte le soluzioni economiche e tecniche dove poter rimettere questa struttura. È uno sport importantissimo, ricordiamo a tutti che il numero dei partecipanti e degli attivisti di questo sport è sempre in aumento, a Tokyo 2020 tra l'altro sarà anche disciplina olimpica. Sul dove spostare la torre d'Arampicata appunto ancora non si sa, l'ha detto prima anche rispondendo al question time, potrebbe restare a Marina di Ravenna oppure potrebbe anche essere spostata altrove? Sì, stiamo valutando varie ipotesi, diciamo che non escludiamo nessuna ipotesi, è chiaro che storicamente quella struttura si trova a Marina di Ravenna e trovare un luogo a Marina sicuramente darebbe continuità all'attività che c'è stata in questi anni, però è chiaro, non escludiamo niente, siamo in contatto con varie parti, ci sono tante persone o società che sono offerte per ospitare la struttura, vediamo, in questo momento sono in corso. Diciamo che la cosa importante è che c'è volontà da parte di tutti di cercare di trovare una soluzione che possa far felice tutti quanti.